Buongiorno a tutti, so che su questo canale abitualmente siamo abituati a parlare di giochi da tavolo ma ho deciso di chiudere qua la questione. Ormai i giocatori da tavolo sanno giocare da soli, sanno giocare online, sanno leggersi i regolamenti, sanno cercarsi tutorial quindi non c'è più bisogno di un qualcosa che aiuti i giocatori da tavolo e vorrei dedicarmi sempre di più alla matematica perché secondo me sono gli studenti quelli ad avere più bisogno in questo momento di video che diano davvero delle informazioni in pochissimo tempo. Probabilmente smetterò anche di giocare da tavolo credo di volermi dedicare molto di più a questo mondo delle matematiche mi appassiona di più, in realtà ho sempre un po' giocato da tavolo per passare il tempo però in realtà non mi è mai davvero piaciuto quindi diciamo che da oggi si inizia a parlare di matematica e la prima cosa di cui vi vorrei parlare è forse la formula più bella che c'è nella matematica ne ho anche una maglietta indosso ed è esattamente il teorema di Pitagora. Ma che cosa dice il nostro teorema di Pitagora? Innanzitutto si applica semplicemente ai triangoli rettangoli ovvero si ha i triangoli che hanno un angolo retto cioè che misura 90 gradi oppure pi greca mezzi se stiamo ragionando in radianti e ci dice che la somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti di questo triangolo è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa cioè vuol dire che se per ipotesi noi costruiamo un quadrato su questo cateto un quadrato, se faccio un quadrato potrebbe essere più interessante, su quest'altro cateto la somma di queste due aree è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa quindi uguale a quest'area qua. Ma da dove deriva questa cosa? Come ha fatto Pitagora a farsi venire in mente questa cosa? Allora c'è una leggenda la leggenda narra che Pitagora era seduto in attesa al palazzo di Policrate quindi c'era un ricco, possibilmente greco, insomma non stiamo facendo storia non ci interessa chi fosse Policrate poi è un po' una mezza leggenda, una favola insomma vabbè comunque c'era Pitagora che guardava sto pavimento a piastrelle che sono i quadrati che vedete qua sotto di me e cosa ha notato? Ha notato questa cosa particolare c'era una piastrella rotta e la piastrella rotta in questo modo aveva creato un triangolo rettangolo chiaramente in questo modo peraltro un triangolo rettangolo isoscele li faccio notare perché i due lati sono uguali ma questo non ci interessa e cosa ha guardato? Ha guardato che effettivamente a fianco c'era una prima piastrella fatta in questo modo quadrata perché tutte le piastrelle sono quadrate chiaramente e qua sotto c'era un'altra piastrella quadrata anch'essa dopodiché ha detto ma io posso pensare di fare un bel quadrato utilizzando solo le diagonali delle altre piastrelle? Certamente sì allora guardiamo con attenzione cosa succede a questi quadrati se io divido questo quadrato con la diagonale e quest'altro quadrato sempre con la diagonale siamo d'accordo che sto ottenendo due triangolini quindi questo qui lo chiamiamo cateto 1 questo lo chiamiamo cateto 2 e questo lo chiamiamo ipotenusa allora cateto 1 l'area del quadrato costruito sul cateto 1 è esattamente due triangolini rettangolini con il loro pallino dentro perfetto guardiamo quest'altro quadrato quest'altra piastrella quadrata anche qua abbiamo due triangolini rettangolini sempre con il nostro pallino perché dico che sono uguali? perché abbiamo detto che le piastrelle sono quadrate quindi se questo lato è uguale a questo lato e questo lato è uguale a questo a questo a questo perché tutti sono quadrati allora per forza di cose questi triangoli sono tutti uguali fra di loro ma attenzione attenzione alla botta finale guardate qua se io adesso divido questo ulteriore quadratone siamo d'accordo che questo 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 e questo sono quattro triangolini uguali fra di loro perché sono sempre metà quadrato sono sempre metà piastrella quindi intanto cominciamo a scrivere che sono uno due tre quattro triangolini sempre con il pallino e perché sono uguali agli altri? per lo stesso motivo perché hanno sempre due lati che sono il lato della piastrella e poi la diagonale quindi sono tutti metà piastrella tutti i triangolini pallino sono esattamente metà piastrella benissimo cosa stiamo dicendo? che triangolino più e triangolino del cateto 1 più triangolino e triangolino del cateto 2 è uguale a uno due tre quattro triangolini della nostra ipotenusa ok? quindi l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti ok? quindi questa intanto è l'enunziazione geometrica del teorema di Pitagora ma si può andare avanti ancora di più perché guardate come la si trasforma in formula forse voi conoscete la formula ma non avete mai capito bene che cosa vuol dire quella formula proviamo ad andare avanti faccio una pagina nuova abbiamo appena detto che il quadrato sull'ipotenusa ok? è uguale al quadrato sul cateto uno più il quadrato scrivo così perché se no non mi sta sul cateto due giusto? abbiamo appena detto l'area del quadrato possiamo scrivere area del quadrato area del quadrato così siamo ancora più precisi area del quadrato e come si calcola l'area del quadrato? si fa di solito lato per lato giusto? l'area di un quadrato è lato per lato quindi stiamo dicendo che ipotenusa per ipotenusa è uguale a cateto uno per cateto uno più cateto due per cateto due quadrato area del quadrato area del quadrato area del quadrato qua noi sappiamo siamo dei matematici fortissimi sappiamo che un numero per se stesso si può scrivere come il numero alla seconda giusto? e quindi posso scrivere che cateto uno più cateto due entrambi alla seconda sono uguali all'ipotenusa al quadrato vi faccio anche notare che noi stiamo dicendo che il quadrato di un numero vedete che ipotenusa al quadrato è esattamente il quadrato dell'ipotenusa come scrivevamo sopra quindi anche nel linguaggio comune matematico stiamo dicendo che il quadrato è perché è l'area del quadrato stiamo solo accorciando le cose questo probabilmente è l'enunciato che avete sempre visto del teorema di Pitagora ovvero sia che il quadrato la somma dei quadrati dei cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa fantastico questa è proprio la dimostrazione matematica diciamo più che dimostrazione è l'enunciazione matematica se vogliamo vedere qualcosa più divertente da vedere come spiegazione vi posso far vedere direttamente questo video questa animazione mettiamola così quindi nascondo un attimo questa guardate questa animazione cosa ci fa vedere ci fa vedere che sul nostro triangolo rettangolo possiamo pensare di riproporcelo uguale a se stesso quattro volte ok quest'area grossa racchiusa qua dentro è c alla seconda ipotenusa alla seconda se spostiamo solamente i nostri triangoli vediamo che stiamo creando due quadrati uno b per b e l'altro a per a può sembrare troppo strana guardate questa animazione qua che forse è molto più semplice da capire l'area nera vedete l'area nera che si chiama c alla seconda cioè l'ipotenusa alla seconda siete d'accordo che semplicemente girando facendo ruotare i nostri triangoli che sono tutti e quattro uguali ma poco ci importa otteniamo un'area uguale alla somma alla somma di a alla seconda più b alla seconda quindi se un cateto lo chiamo a un cateto lo chiamo b e l'ipotenusa lo chiamo c continuando a vedere questa animazione vediamo che le due aree nere dei due quadrati a e b sono uguali all'area del quadrato c quindi queste sono dimostrazioni geometriche diciamo così vi ho fatto vedere una definizione matematica e questa è forse una dimostrazione geometrica abbastanza intuitiva ok ci manca solo un pezzo ovvero sia sì ma cosa ci serve il teorema di Pitagora perché è così bello allora beh nel corso dei secoli eccetera ci sono state un sacco di applicazioni interessanti ad esempio grazie al teorema di Pitagora noi possiamo sapere subito che la diagonale qualsiasi di un quadrato di lato L ha esattamente lunghezza L per radice di 2 ad esempio così come possiamo sapere che in un triangolo equilatero se questi lati fossero tutti uguali se io fossi in grado di disegnare correttamente un triangolo equilatero quindi facciamo che il lato è sempre L noi possiamo sapere che la lunghezza della sua altezza se questa la chiamo H è sempre L mezzi radice di 3 queste applicazioni diciamo che vi danno istantaneamente la misura precisa esatta vi faccio notare che è molto meglio lasciare indicato il radice di 3 e il radice di 2 piuttosto che trovare il numero perché sono numeri irrazionali quindi non finiscono mai qualsiasi numero di cifre voi scegliate di scrivere è comunque meno preciso del lasciare indicato radice di 2 e radice di 3 ci permettono di calcolare istantaneamente le lunghezze di una diagonale di un'altezza e questo iterato su altre figure ci permette di calcolare ad esempio le diagonali di un rombo oppure il lato oblicuo di un trapezio insomma tutti quei problemini di elementari medie che sicuramente avete fatto ma andando più nell'applicazione ad esempio se abbiamo un banco di scuola che ha un angolo un po' rovinato e volete fare ad esempio una squadretta voi potete sapere che la squadretta è 10x10 e quindi sapere esattamente quanto tagliare per fare un rinforzo su questa cosa oppure ancora abbiamo una facciata di una casa volete fare una tettoia lunga in un certo modo sapete esattamente quanto deve essere la staffa di rinforzo per tagliarla correttamente insomma per avere il taglio queste sono applicazioni molto precise volete vedere quella cosa del lasciare indicato radice di 2 ci dà un'indicazione più precisa ve lo faccio vedere subito facciamo un problema di questo tipo guardate ci diamo un bel quadrato di lato 3 così lavoriamo con i numeri che ci piace sempre prendiamo la sua diagonale e ci disegniamo a questo punto un nuovo quadrato costruito sulla diagonale vogliamo calcolare l'area di questo quadratone grosso allora attenzione abbiamo appena detto che la diagonale di un quadrato è l per radice di 2 quindi stiamo dicendo che è 3 per radice di 2 allora metodo 1 io so che la radice di 2 precisamente è cioè precisamente scusate è 1,4142 bla 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 eccetera se io prendo la mia fida calcolatrice e dico 3 per 1,41 è 4,2426 è 4,2426 bla 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 teniamo che approssimiamo la quarta cifra decimale caspita sono quattro cifre decimali ora avendo trovato la nostra diagonale la lunghezza della diagonale come si calcola l'area del quadrato beh questo quadratone è un quadratone di lato di di lato diagonale quindi la sua area sarà di alla seconda cioè 4,2426 alla seconda prendo di nuovo la mia bella calcolatrice 4,2426 alla seconda clicco qua 17,9996 17,9996 ok abbiamo calcolato la nostra area metodo numero 2 questo facciamo che lo chiamiamo metodo 1 guardate nel metodo numero 2 diciamo che è quasi 18 questa area 9,996 cioè praticamente stiamo dicendo che è praticamente 18 attenzione potrebbe essere esattamente 18 lasciamo indicato che la nostra diagonale sia 3 radice di 2 quindi non facciamo nessun calcolo lasciamo l'indicato così non spaventiamoci so che spaventa sempre la serie 12 non spaventiamoci lasciamola così com'è benissimo l'area del nostro quadrato sarà sempre diagonale alla seconda l'area del quadratone 3 radice di 2 alla seconda ora proprietà dell'elevamento al quadrato ci dice che posso tranquillamente scrivere questa cosa fatta così andiamo con ordine 3 alla seconda 3 per 3 fa 9 attenzione non fa 6 so che stavate pensando 6 no 3 alla seconda fa 9 per un numero sotto radice elevato al quadrato che cosa fa? fa il suo stesso numero cioè 5 alla seconda sotto radice quadrata 5 alla seconda 25 radice quadrata di 25 5 4 alla seconda sotto radice 4 per 4 16 radice quadrata di 16 4 radice quadrata di 10 alla seconda 10 alla seconda fa 100 radice quadrata fa 10 quindi un qualsiasi numero alla seconda sotto radice fa sempre quel numero lì quindi 2 alla seconda sotto radice fa esattamente 2 guardate qua risultato 18 tadaaaan attenzione prima cosa 18 è giusto è il risultato giusto ok quindi 18 è l'area di quel quadrato se stiamo ragionando in centimetri quelli sono 18 centimetri quadrati in metri 18 metri quadrati esattamente 18 non circa 18 prima cosa seconda cosa vi faccio notare che mentre prima sono passato dalla calcolatrice ben 3 volte qua non ho usato mai la calcolatrice ho potuto farlo tuttamente quindi un vantaggio sicuramente pesantissimo e bellissimo direi che la lezione sul teorema di Pitagora può concludersi qua così vi ho dato l'idea di che cos'è come serve come si maneggia il teorema di Pitagora qual è la sua eleganza e poi vi lascio un piccolo quesito che potete fare mentalmente prima provate a rispondere mentalmente e poi provate a fare i conti immaginate che esista un ponte ok cioè che esistono ponti lungo 4 chilometri ciao vi aiuto vi scrivo che il ponte è lungo 4000 metri ok e che abbia un corrimano quindi facciamo un corrimano più sottile che è ovviamente dritto e parallelo immaginate che io sia in grado di disegnare correttamente il ponte e il corrimano provo a rifare istantaneamente il ponte se vado più veloce forse meglio ok e il suo corrimano che sia dritto a causa del calore quindi immaginate che ci sia un sole mega potente ok oh no c'è un sacco di sole stamattina perfetto il corrimano si allunga di un centimetro quindi attenzione un centimetro significa che diventa questi sono metri questi sono decimetri questi sono centimetri più uno ok questa è la lunghezza finale del nostro corrimano vi chiedo se voi foste al centro esatto del ponte riuscireste con la mano a toccare ancora il corrimano il corrimano in totale si allunga di un centimetro e facciamo per comodità che si allunghi in maniera uniforme che non ci sono vincoli ma che qua sia esattamente bloccato quindi che l'effetto di questo allungamento sia che il corrimano diciamo guardate vi aiuto un po' con la figura fa una roba così quindi si sta allungando si sta alzando al centro se si allunga di un centimetro un corrimano quindi un centimetro su quattro chilometri vi ricordo voi che siete al centro riuscirete ancora a toccare con la mano il corrimano rispondetemi provate prima con la testa e poi provate a fare i calcoli utilizzando ovviamente il tema di Pitagora vediamo le risposte scrivetemele pure qua qua sotto nella descrizione con questo quindi ho finito vi saluto vi ringrazio per aver seguito la mia lezione di matematica minuta e non mi resta che salutarvi con un ciao e alla prossima